Nello storico quartiere di San Michele ha preso il via ieri sera a Ducizza l'evento di promozione dell'arte dolciaria siciliana, in particolare delle eccellenze tipiche della città di Sciacca, quale l'ova murina, le cucchitelle e la salviata, dolci che si legano per diversi aspetti al luogo della manifestazione. San Michele è uno scrigno di leggende, di storie, tu lo sai, ovviamente abbiamo da un lato l'abbadia grande che racconta la storia delle ova murine, questa sera conosceremo la storia della salviata che nasce pure a San Michele grazie a Giovanni Montemaggiore, quindi c'è una storia legata al patrimonio dolciario che dobbiamo valorizzare, dobbiamo ovviamente fare sperimentazioni anche come giusto che sia da bongoloso, però secondo me dobbiamo far sì che questi nostri prodotti possano essere conosciuti anche fuori. Si può dire che questo è il festival della prova? E' di lancio perché secondo me va rivisto un po' il periodo, vanno riviste alcune cose, però è già un tentativo per valorizzare la nostra città, valorizzare questo quartiere che si ritrova in festa, siamo a San Michele, nelle giornate di San Michele, ma dall'altro lato secondo me dobbiamo valorizzare ancora di più anche il nostro istituto alberghiero. Ducizia ha l'obiettivo di ridare vitalità al quartiere di San Michele con una tre giorni di talk show, show cooking, degustazione e momenti di intrattenimento vario. Festival della tradizione dolciaria che entra a pieno titolo tra gli eventi su cui bisogna puntare, anche come volano di promozione e attrazione turistica durante tutto l'anno. Di questa vivacità del quartiere abbiamo pensato ad una festa che può valorizzare i dolci, una festa che si deve ripetere nel corso degli anni e una festa che valorizza appunto i dolci, così come l'ha stato per la ceramica, così come l'ha stato per l'olio per fare in modo che tutto ciò che è identità territoriale possa diventare nostra identità e possa aprirsi al mondo anche al turismo e al gastronomico. Ieri sera la serata inaugurale di Ducizia con due mostre, una dedicata alla memoria di Emilio Sorci all'interno dei locali della Badia Grande, l'altra quella di Silvia Cottone alla Torre Campanaria. La manifestazione è proseguita poi con il primo dei talk show a tema dal titolo Sciacca, un'antica tradizione dolciaria. Spazio poi allo show cooking, protagonista una delle eccellenze dolciarie di Sciacca, ancora poco conosciuta, la salviata a cura dello chef Giovanni Montemaggiore. Ricotta, pangrattato, uova, cannella, buccia di limone e un po' di zucchero, poco, perché poi all'ultimo vanno laccate con il miele, quindi le mandorle tostate e tritate e molte foglie di salvia fresca, non quella secca perché cambia completamente. Si chiama salviata? Si chiama salviata appunto, non a caso. Poi si fanno acchianelle, c'è cucchiaio contro cucchiaio per chi non lo sapesse, e si friggono come se fossero delle crocchiettine, si friggono in un olio non molto caldo, non deve essere aggressivo, quindi l'olio se va a 180 dovreste cucinarli a 150-160, un po' come se fanno le sfinge che non vanno in olio in grasso molto caldo, altrimenti si bloccano anziché crescere. Dopodiché si mettono da parte su una carta assorbente, dopodiché si mettono ancora caldo e tiepide su un piatto, oppure io ho preso delle barchettine che si presentano pure bene con una barchetta e si laccano con del miele, diciamo di agrumi, di millefiori, un miele che piaceva. Ducizia continuerà fino a domenica 1 ottobre in piazza Noceto, a partire dalle 19.30 è disponibile l'area degustazione, a cura dell'Istituto Amato Vetrano di Sciacca e di diversi partner del settore alimentare. Nel quartiere anche esibizione di musica, gruppo folk e tanti altri divertimenti.